Nel 2.0 faremo un'immersione di grande esperienza, avremo l'onore di avere un grande esperto con 30 anni di esperienza in immersioni, utilizza le bombole, ha fatto immersioni con gli squali, veramente ragazzi, questa è la grande opportunità per noi e vi presento Cristian. Questo uomo ha 30 anni di esperienza nelle immersioni, quali sono state le tue immersioni più impegnative, più significative? Allora, in Sudafrica dove c'erano gli squali e uno lo ha chializzato e poi gli è diventato per arrivare domestico. Ok, io guarda ti voglio ringraziare a nome del sindaco di Guardia Piemontese perché ci stai dando questa grande opportunità di effettuare questa grande immersione nonostante dando le tue grandi esperienze per valorizzare meglio questo posto. Io proseguirei con i tuoi filmati. Andiamo in una piccola coca all'interno dello scoglio della regina. No, really do commitment, trust me, consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now I don't know Grazie a tutti.